Siamo persone con background diversi, ci sono architetti, ci sono anche scenografi, c'è un ingegnere, un avvocato, insieme condividiamo una preoccupazione per i flussi di materiale e per il riuso in particolare, per il riuso di materiale. Siamo iniziati nel 2005 con un studio abbastanza completo dei fonti di rifiuti industriali potenzialmente interessanti per il design, l'architettura, i creativi diciamo. E poi il progetto è cambiato un po', dopo qualche anno siamo diventati più esperti sul campo dei rifiuti edili e oggi siamo specializzati da un lato nel smantellare elementi di edifici che vennero o che saranno distrutti. Li ricoperiamo e poi proviamo a ritrovare progetti in cui reinserirli oppure vendiamo questi alimenti a clienti che abbiamo.